In principio fu la scatoletta di tonno da adaprire con l'apriscatole, simbolo del Parlamento, luogo scuro dove si celano le trame della casta. Ma questo non poteva bastare. I nostri impavidi eroi a 5 stelle hanno pensato bene di andare oltre la scatoletta di tonno e presentare una importantissima proposta di legge. La salvaguardia della pasta italiana fatta in gran parte con grano saraceno. Neppure cristiano, saraceno, roba da crociate. Ma voi ci pensate? Però, riflettendoci, secondo voi è giusto fermarsi alla sola battaglia contro il grano saraceno? Io proporrei, che ne so, una battaglia contro l'insalata russa, ad esempio, simbolo di Putin e della Russia omofobica. Oppure, perché no, contro i cavoletti di Bruxelles? Sì, quelli che rappresentano il piede sul collo che l'Europa ci pone tutti i giorni. Oppure, perché no, contro gli hamburger? Simbolo dell'imperialismo statunitense che ci colonizza ogni giorno vi è più. E perché non andare oltre? Ad esempio, perché usare il riso parboid? Parboid. Ma vi pare che possa essere italiano un riso che si chiama così? L'unica cosa che possiamo accettare è la zuppa inglese. Zuppa inglese che ci consiglia il buon Nigel Farage. Un uomo serio, onesto, retto e dai sani principi morali. Senza la benché ombra minima accusa di poter essere definito un razzista e xenofobo. Quindi ricordatevi, cari amici, alle prossime lezioni per il rinnovo dei consigli condominali, votate 5 stelle. Così saprete finalmente cosa mettere sulla vostra tavola.